E' stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Giara l'avviso per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge numero 193 del 2016, convertito dalla legge 225 del 2016, che disciplina la definizione agevolata delle entrate degli enti locali. Insieme all'avviso è stato pubblicato il regolamento che definisce la procedura e il facsimile della dichiarazione già approvati dal Consiglio Comunale su proposta dell'Aggiunta Comunale. La definizione agevolata è come oggetto alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento negli anni dal 2000 al 2016. I debitori possono estinguere il debito versando alle somme ingiunte le spese di notifiche, riscossione coatto o altra spesa senza dover pagare le relative sanzioni. La relativa istanza deve essere presentata entro il prossimo 2 maggio con le modalità previste nel regolamento utilizzando lo schema di facsimile pubblicati sul sito internet del Comune di Giara nella sezione avvisi. Il Comune in caso di accoglimento della richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza dovrà dare comunicazione entro il 30 giugno 2017 circa l'ammontare del debito, le modalità di pagamento tributi e relativi, l'importo delle rate e la relativa scadenza come disciplinato all'articolo 4 del regolamento comunale.